Succede adesso Parla inglese imbecille gli ho detto Regà prima di iniziare questo video Già potete vedere dai miei spalle che sarà fantastico come Cioè veramente è un film fatto benissimo Lasciate un bel mi piace, condividete il video E mi raccomando passate al link in descrizione Che trovate il video del canale originale Mi raccomando Adesso non ci resta altro che buttarci direttamente all'interno di questo film Perché sarà fighissimo fidatevi Ovviamente regà speriamo di capire l'inglese Perché io non è che me la capo così tanto in inglese Però proveremo dai C'è uno squalo intanto, c'è uno squalo mitico Che si aggira per la mappa E' comparsa una pubblicità, togliamola sinceramente Squalo dorato, vediamo 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 che cosa succede a questo povero squalo Oh Ci ha mangiato Va bene Ok c'è un mietitore su una barchetta a quanto pare Ok non ho capito niente regà Però noi guardiamo le immagini Tipo i bambini a scuola Ce l'avete presente Cos'è questa cosa ha detto Ma che figata Ok raga Cioè questi stanno a parlare Cioè c'è lui che parla con la cassa C'è il mietitore che sta parlando con la cassa in questo momento Se n'è andato Il mietitore se ne va No no attenzione Passa da dietro Qui siamo alla barca pirata Eccolo che entra Sta cercando qualcosa a quanto pare Incredibile Sì Ciao Ci sto io Usa le gomme Sono sopra Gli ha detto regà Quel tizio che è sopra Probabilmente è un pirata Non lo so È un qualcosa del genere Ah no Ma Regà Ma c'è un tizio che cucina gli hamburger Ok Ma che spettacolo è sta cosa Ok Lui cerca un regalo per la ragazza Regà il mietitore Vediamo Vediamo se lo trova Vediamo che cosa gli compra Non penso gli compri un hamburger Sinceramente È bellissimo regà Penso sia uno dei film Pi belli che ho mai visto L'unico problema è che magari Non riusciremo a capire bene la trama Sinceramente Qualche parola salterà Non mi muovo Tranquillo Vediamo 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 Ok ho capito Un po' ho capito Ho capito Ok Non sei ancora abbonato E vuoi giocare con me Traster Trovi tutti i link per abbonarti In descrizione Dovrebbe esserci anche una scheda qui sopra Se non sbaglio Ma adesso ti lascio al video Che penso che ti stavi divertendo Dai Cosa succederà Perché c'è la tempesta Bla 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 Ok Mida Troviamo un mida in mezzo a una zattera In mezzo al mare E arriva lo squalo Attento mida Scappa 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 Vai via Vai via E invece Ok lui sa qualcosa Che noi non sappiamo Vediamo adesso che succede Perché si sta muovendo La telecamera È sempre molto Potrebbe succedere Qualsiasi cosa Ok Transizione si va Da mida Si si va da mida Sono vivo Vediamo Vediamo Veramente ha fatto benissimo Questo video Cioè non me l'aspettavo così bello Ho fatto tutto con i replay Guardate le emote Tutto perfetto Oh Arrivò lo squalo Vediamo Vediamo che cosa Cosa combina Il nostro mida No Deadpool è arrivato Che colpo di scena Regà Deadpool Che diavolo stai facendo qui Non lo so Ma come non lo sai Ma che sta a fare Ma che sta a fare Deadpool Ok gli sta spiegando Per quale motivo Midas sta qui Si trova qui Ok Perché era tutta una simulazione Gli ha detto Va bene Ci sta in effetti Ok ci sta in effetti Vediamo un po' Se riesce a salvarlo Vediamo Vediamo che cosa Succede adesso Parla inglese Imbecille Gli ha detto Vediamo Ma che spettacolo Gli ha detto Che c'è la sorella Di mida Che sarebbe Jules Jules Come si chiama Gli ha detto Che c'è la sorella All'agenzia E si è arrabbiato No Regà Tranquillizzate Mida Poverino Che è stato mangiato Da uno squalo A quanto pare Che c'è la sorella Ma che sta a fare Oh Gli ha dato un cazzotto Ma no Regà È fatto veramente Benissimo Con tutte queste Motte Che corrispondono Alle voci No Arriva lo squalo Adesso Lo squalo Attenti allo squalo Lo squalo Regà Attenti No Non c'è più È sparito Il povero Mida Rimane lì Da solo Un'altra volta Il mietitore Nel frattempo Che cosa sta facendo Secondo voi Ecco No È sempre Mida lui Che dice Di no Con la testa Sono dorato Come la mia Magnifica pistola Oh C'è qualcosa in acqua C'è uno squalo C'è uno squalo in acqua Che sta girando Intorno a mida No Lo sta provocando Regà Va a finire Che se lo mangia Va a finire Che se lo mangia Eccolo Va Va Non ho capito È uno squalo Ma Regà Mi ha finito Quello squalo Regà Mi ha finito Quello squalo Scusate Aspettate Un attimo Quella è una skinna Di fortemente Non penso sia uno squalo Perché si stanno A prendere calci Oh Gli ha dato Una picconata Ma è fatto Veramente benissimo Una settimana dopo Ok Vediamo che è successo Una settimana dopo Sono molto curioso Dopo tutto quello Che ci hanno fatto vedere Una settimana dopo Lui è ancora qui Seduto In ginocchio Va bene Ok Convinto di essere Una simulazione Adesso Vuole Suonare Della musica Non ho ben capito Che cosa sta facendo Mida puoi smettere Mida puoi anche smettere Di cantare Non sei così bravo Non so se te l'ha detto Qualcuno Non sei proprio Un cantante nato Mida basta Per favore Le orecchie Mida basta Basta Mida Basta Per favore Oh I squali Ma se lo mangiano Raga Ballano Avete mai visto Due squali Che ballano A ritmo Di Di chitarrina Piccolina Di ukulele No Se ne sono andati Ma lui è triste Oh no No lo squalo No no Lo squalo è vero Stavolta Scappa Ok vediamo 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 Andiamo avanti Questo film Raga ci sta incuriosendo Particolarmente Soprattutto a me Molto bello Vediamo Vediamo come va a finire Sono molto curioso Ok Il pirata della barca Non creda Gli squali Da quello che ho capito E gli sta dicendo Che è passo Ok Ma alla fine L'ha comprato o no Il regalo Il mio editore Eccolo E infatti L'ha appena detto Di comprare il regalo Uno dog Ma come uno dog 3.50 Ok in effetti È vero Appena detto Che è la fine Dell'opisodio Ok Stanno facendo Un commento Su questo video A quanto pare Sono usciti Un attimo dal film Da quello che vedo Beh comunque Se siete arrivati A questo punto del video Facciamo come loro Commentate Scrivendo La vostra arma preferita Non lo so Mi viene da dire questo È finito È finito il film Regà È stato molto Ma molto bello Devo dire Molto ma molto bello Regà Interessantissimo Lasciate tantissimo Mi piace Passate dal canale Che trovate in descrizione Perché è il canale Dove carica i video Questo ragazzo Penso sia un ragazzo Molto bravo Molto bravo Devo dire Vi lascio il link Del video Potremmo fare altri video Sì Lasciate almeno 7000 like 7000 like Nuova reazione Ai film di fortnite Mi raccomando Fatelo Condividete il video Lasciate un mi piace E condividetelo Con i vostri amici Che adorano fortnite Questo è solo Quello che vi chiedo Mi raccomando anche Di supportarmi Nel creatore Codice Lollopollo Noi ci vediamo Domani con un nuovissimo video Una nuovissima live Direi Bella a tutti